E' stata pubblicata l'ordinanza numero 89 del 25 settembre scorso che definisce le procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti covid-19. L'ordinanza in questione che integra l'ordinanza numero 53 del 3 maggio scorso definisce regole in materia di igiene e sanità pubblica, nello specifico in base alle indicazioni fornite dal referente sanitario regionale per le emergenze rese al direttore del dipartimento sanità in considerazione della ripresa dell'anno scolastico e alla luce dell'andamento epidemiologico SARS-CoV-2, l'ordinanza numero 89 dispone, nella eventualità di riscontro dei soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata di tamponi agli stessi ai contatti stretti laddove ritenuto necessario, secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti. Inoltre la stessa ordinanza consente di attribuire ai tamponi effettuati per tali soggetti nella esecuzione e nella refertazione un codice di priorità rosso al fine di consentire a tempestiva regolare riprese delle attività scolastiche oltre a stabilire che le predette disposizioni integrano le disposizioni già contenute nel documento tecnico procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19.